Medicina per curare i sani. Se ne è parlato nel convegno dalla cura del malato alla cura del sano che l'Ordine dei Medici di Piacenza ha organizzato al Collegio Alberoni. Il termine esatto è medicina potenziativa e comprende tutta quella branca di interventi fatti non tanto sulle persone malate ma su quelle sane che desiderino migliorare il loro stile di vita. La scienza ha fatto passi avanti incredibili e mette a disposizione delle donne e degli uomini delle possibilità di miglioramento della loro situazione che una volta erano impensabili e impossibili. Miglioramento delle condizioni cognitive, dell'aspetto estetico, delle prestazioni sportive. Ovviamente tutto questo è un problema nuovo, un problema delicato che va affrontato con prudenza tenendo conto delle richieste dei pazienti ma tenendo conto anche dei limiti che bisogna fissare per non andare oltre, per non creare dei problemi, per non generare dei rischi per noi e per i nostri figli e nipoti. Grazie.